Una casa di appuntamenti è stata scoperta in via Piave, pieno centro a Castel San Giorgio, dagli agenti della locale Polizia Municipale guidati dal comandante Giuseppe Contaldi. Il blitz è scattato stamattina alle 10.30. Un agente si è finto cliente nel pattuire il prezzo per le prestazioni, invece di pagare, ha estratto al posto delle banconote il tesserino di identificazione. Subito dopo sono giunti gli altri agenti di Polizia Municipale che hanno avviato la procedura di perquisizione e di identificazione delle persone presenti nella casa Lucirosse. Nell'appartamento tre donne che cedevano prestazioni sessuali, sono stati trovati anche alcuni cellulari i cui numeri corrispondevano a quelli reperibili su un sito internet e precisamente Bacheca Incontri. Una delle donne si fa chiamare Margarita Boccacalda per pubblicizzarsi sul web aveva scelto diverse foto ose e messaggi alquanto espliciti. I caschi bianchi hanno rinvenuto anche un'agenda sulla quale erano appuntati i numeri di diverse prenotazioni già effettuate per successivi appuntamenti e che sono al vaglio del Maggiore Contaldi per nuovi sviluppi dell'indagine. Sia il proprietario dell'immobile che l'affittuaria sono stati deferiti all'autorità giudiziaria. Inoltre per una delle tre donne è stato proposto il foglio di via obbligatorio. In poche parole non potrà più mettere piede sul territorio comunale di Castel San Giorgio. L'attività era iniziata da alcuni giorni ed è stata smantellata dalla polizia locale con un'operazione che al termine di una rapida indagine dedicata ha determinato il blitz di stamattina.